Da grande voglio fare l'inventore ecologista. Non lo so. La cardiochirurga. Non c'è tanta scelta. Io vorrei salvare degli animali. Non credo ci sarà un grande miglioramento. Se ci fossero più opportunità... Ci sentiremo più liberi di sognare. Sì, io nel futuro ci credo. Il futuro ha bisogno di protagonisti giovani. Grazie a tutti.